Dopo alcuni mesi di cure, la tartaruga Jeannette può finalmente tornare a casa, in mare. Domani, giovedì, alle 11, ripartirà dalla spiaggia di fronte al centro di recupero di Riccione, gestito dalla Fondazione Cetacea in Via Canova, dove è stata curata. Quando si è spiaggiata lo scorso marzo, a Lido di Venezia, era fortemente debilitata e una staffetta di volontari l'ha portata al centro riccionese, dove le è stata diagnosticata un'infezione. All'arrivo pesava 53 chili per 80 centimetri di carapace, ora di chili ne pesa 62. Jeannette, che dovrebbe avere circa 25 anni, sarà una delle protagoniste di un progetto di studio e monitoraggio delle popolazioni di tartarughe in Mediterraneo. Le verrà installato sul carapace un dispositivo satellitare che ne mapperà i movimenti per alcuni mesi per studiare nelle abitudini migratorie, ma anche acquisire dati come temperatura e salinità dell'acqua. Il dispositivo, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso i fondi LIFE, rientra tra le azioni del progetto LIFE Mad Turtles, di cui Cetacea è partner e che si concluderà nell'agosto del prossimo anno. Oltre a raccogliere informazioni, servirà a proteggere i siti di nidificazione e ridurre l'impatto della cattura accidentale in attrezzi da pesca, intervenendo sulla sensibilizzazione dei pescatori, ma anche rimuovendo i cosiddetti attrezzi fantasma sul fondo marino, talvolta letali.